Un applauso alle due formazioni che stanno colgendo l'ingresso in campo dalla terna arbitrale capitanata dal signor Giovanni Sanzo e i suoi assistenti Giuseppe Caipo e Federico Principato di Agrigento. Al loro ingresso al centro campo partiranno gli indi nazionali. Grazie. 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 Un applauso all'Akragas e alla Nazionale di Malta del 21. Ladies and gentlemen, the U.S.D. Acragas football welcomes the national football of Malta. Ladies and gentlemen, the U.S.D. Acragas football welcomes the national football of Malta and all his staff. From Acragendo, today, the message of peace among the peoples of the Mediterranean. Good luck. It's a recognition between the director of the Acragas, Toto Catani, and the manager of the national under 21st of Malta, where they exchange symbols that represent their cities. A applause for this gesture. A applause! Aroken! Aroken! Hey, 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 hey! Nice job! Hey, go! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti